Nella prima domenica di sosta del campionato di basket di Serie A, riflettori puntati sul calcio, dove la Vis Pesaro rimedia il secondo pareggio consecutivo. È 1-1 a Pontedera col Montevarchi e succede tutto nella ripresa, coi Toscani avanti con Gambale e il redivivo Tonso a pareggiare un quarto d'ora dalla fine. Vis però costretta a mangiarsi le mani per una chance divorata da Saccani proprio all'ultimo secondo del match. Io dico sempre che ci sono sempre due partite, quella tattica e quella emotiva, e se nel primo tempo quella emotiva sicuramente è stata vinta dai nostri avversari, dopo la dinamica finale ti porta sicuramente a dire che la Vis Pesaro è uscita dal risultato facendo gol, pareggiando e cercando di portare a casa comunque i tre punti. E questo quando lo fai fuori casa dimostra comunque coraggio, voglia di sacrificarsi e contro una squadra che è giovane, che corre e che fa far fatica agli avversari non era scontato. In Serie D pari anche per il Fano, che dopo due vittorie di fila si ferma sullo 0-0 al Mancini col Pineto. Nella pallavolo, fondamentale vittoria per la Megabox Vallefoglia, che al palacarnaroli di Urbino contro Perugia, va sotto e poi vince 3-7-1 rilanciandosi in classifica. Il sabato aveva invece visto sugli schermi di Rossini TV la straripante vittoria del Little Service a Pescara. 5-1 per gli uomini di Colini, che rafforzano il loro secondo posto in classifica, vincendo il match d'alta quota grazie alle reti di Salas, Canal, Cuzzolino, Fortini e Borruto.